I suoni che sentite in diretta su R2O sono quelli della Samson House Andrea Maggino, Marco Sanzoro e Back to Back E ho il piacere di introdurvi un altro volto del Sanzaro Biccia, la prima, la storia e non poteva mancare anche nel giorno in cui scriviamo un altro importante capitolo signore e signori, Luigi a Papi Russo e anche io, Fabio Marzo, benvenuti a Sanzaro Biccia e la vita a pensare che non finiscono me lo facciamo anche di me che cavolo ci fate tutti da Fermi, che cavolo ci fate vi voglio essere vicini perché vi voglio regalare i caffellini perché vi voglio tutti vestiti da parte di cantare